E partiamo con la quinta missione E partiamo con la quinta missione E partiamo con i statutenenti Una barra caricata Non così però E partiamo con la quinta missione 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 Ok qui più o meno E partiamo con la quinta missione E partiamo con la quinta missione E partiamo con la quinta missione La quinta missione E partiamo con la quinta missione Sì adesso sto spammando sempre la mossa finale perchè c'ho gli oggetti che mi permettono di ricaricare velocemente il flow, quindi ne ho tutto ok, procediamo all'ultimo ok, con questa è finita ho bisogno di ricaricare in breve continuando a fare vittorie c'era passato tre anni e quindi il nostro ragazzo ora c'è la griffith no handani stagano da chiesa come anche i giovani tuccon de silenove iassini ironia e de santa gazzini a chiri comita io si chiede mora in Sì Vabbè abbiamo capito che poi è diventato capitano in questi tre anni Grazie a tutti